Ragazzotti, sto registrando di seguito il video che avete visto ieri Quello là del trucco di magia, double carta vince, carta perde E ci sono rimasto una cifra male Proprio tanto, se non l'avete visto vi consiglio di andarlo a vedere A cura matata ragazzi, ben ritrovati al vostro Ciccamer89 Siamo tornati su Fortnite, vi ricordo, Ciccamer89 Live Show, primo luglio a Roma Mancano pochissimi biglietti, link in descrizione per comprare se volete venire Allora, mi mancano pochissime sfide per prendere lo spaccatuto, credo, non mi ricordo, bene Piccone, forse aeree rapidi rischiose 2 e fai gol su campi diversi, quello si fa, ma pure quello del piccone Quindi signori, andiamo sulla lobby, giocatore singolo, paracadute sulle spalle e let's go E una cosa che voglio togliermi assolutamente è il piccone Nooo, quello mi fa cagare Ecco, il piccone randomico ragazzi, no Ragazzi, ci siamo Seconda partita della giornata Rapide rischiose, ce l'ho qua Dobbiamo aprire due bauli, poi pure se muoio non ve l'ho fatta, vede sta partita mi sta bene uguale perché se apri i bauli GG Allora, dato che abbiamo capito l'altra volta Che c'è una cassa qua Molto buona Fuori da rapide rischiose ma viene comunque conteggiata Come aperta rapide rischiose, che stanno le macchine là adesso a 105 Vediamo se ce va qualcuno, perché se non ce va nessuno e c'è la cassa, io proverei ad andarla a prendere Anche se vedo che là Ok Non mi sembra ci sia nessuno che ci voglia andare La possiamo prendere noi Mi vado a prendere un po' di legno Ok, vedete, mela aperta Ho anche del C4 Molto carino Ne ho uno là La gente ovviamente Si sta massacrando Gli vedevo solamente gli occhi illuminati ragazzi Quindi occhio Alle skin Che vi mettete Sono belle, tutto quello che vi pare Occhio Semplicemente occhio Qui è stata presa Porca mignotta Che botta ragazzi Oh raga Eeeh Oh A me finchè fanno così A qualcuno dispiace Non credo Eh, non credo Ma non tanto quest'artic Che ci hanno provato Lui proprio è stato là Ha detto sai che c'è Dicevo È stato là Ha detto sai che c'è Io quasi quasi mi faccio ammazzare Ammazza oh Siamo partiti Di un aggressivo ragazzi Eeeh Pauroso Pauroso sta partita oh Quindi facciamo così Facciamo così Io Per un motivo Vi giuro O per un altro Preferisco tenermi Dov'è? Ah sta qua dentro Il c4 Perché il c4 È molto Molto interessante Oh le prese tutte Ma che bello Quando è così ragazzi Ma è bellissimo Questo start Cioè se non vinco Sta partita Piango Cioè o se non la vinco O se non succede qualcosa Di carino Io piango tipo troppo ragazzi E me sentite piangere da qua Fino a casa vostra Dai no Siamo seri Allora il c4 In questo caso Va Sacrificato Andiamo anche All'altra cassa Stesso discorso Di prima però Cioè Che cosa prendo Cecchino O non prendo Il cecchino Ora credo che Credo che Il cecchino Sia morto Questo ha Un bel famas Uuuuh 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 No il famas Non ce l'ha Però Prevedo Prevedo Sta qua dentro Eh Quindi Ok Quindi 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 La partita Sicuramente Interessante Questo l'abbiamo finito Mi vado a prendere Le bende Mi vado a prendere Questo Ok Ok Stiamo Stiamo molto Stiamo molto attenti Che nessun altro In ben In ben Ben altre direzioni Io La partita Ma aveva steccato Ma aveva steccato Ragazzi Se era un pochino Più bravo Dai mettiamolo C'era ninja Ma aveva aperto Le grandi Ciappette Però ninja Non c'era E le ciappette Gliel'abbiamo aperte Noi Però che Chiavolo Un attimo De respiro Veramente Che veramente Allora Le mie opzioni Sono Da Andare lì E vedere Chi c'è O passare Per il bosco E qua Per le rocce E lutare Un fottio Ci siamo risposti Da soli No? Non so Se avete notato Ok Sta Correndo Bene Bene Credo Che la capannetta L'avesse fatta Lui Che benessere Che benessere Ma che stai a dire Quanto benessere Va bene così Ragazzo Cioè lui è stato Tutto il tempo A lutare qua Per me Praticamente Occhio però che Magari qualcun altro È stato avvertito Probabilmente Dico Non sicuro al 100% Ma Non mi va mica De beccare a me Una cecchinata Capito? De quelle che dici Ah Mo ti attacco Io ti faccio Un gran culo Io Dunque una bella botta In faccia Devo essere sincero Non volevo Prenderlo in faccia Cioè Volevo sicuramente Danneggiarlo Ma staccagli la testa No Questo Potrebbe essere Assolutamente Un fight Mi piace Mi piace Rompe i coglioni Così Mi piace tipo Troppo Perché di solito Le rompono a me Capito? Quindi A quello mo' Gli ho rovinato Un po' Il tutto Non posso rimanere Troppo 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 Fermo Se no ragazzi Rischio Vediamo Ok La partita è molto carina Un bel lanci Adesso Sicuramente Mi sarebbe stato Molto Molto Utile Ora mi sembra di Non sono sicuro Ok Pensa che Pensa che lui Aveva finito Ogni sorta Di roba Quindi Vado qui Ok Ok Non ho molti medi Riguardando Adesso Tutto Quanto Materiale Adesso Ne ho meglio di prima Sicuramente Dai Ci siamo Ce la stiamo Giocando benissimo Cioè Seppure questa Non la vinco Ve la porto Perché A me piace Come partita Poi che non la vinco Va bene Però Bella 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 Mi piace Mi piace Mi piace Voglio Stare a posto Anche con la roccia Non so se avete Notato Là ho visto Una rampa Possibile Yes Hai qualcuno Che schiappa Qua in mezzo Le praterie Che ho una bella Briscoletta In faccia No eh Perché Sto vedendo Oh ok Ho tre jump Quindi sto Anche meglio In realtà Di come pensavo Vedi si che fai Nei prendi Prendi Ok Non mi sembra di Aver visto Nessuno Lì sulla rampa Ci sta uno Che mi ha laggato Tipo Ok Va bene Va bene Va bene Ho visto veramente Laggare Una cifra Ragazzi C'è proprio Tanto 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 Stiamo attenti Perché non si sa mai Lui Probabilmente sa Dove siamo Più o meno Anche noi Ma Lui sa che Lo stiamo attaccando Invece lui Me la sta camperando Quindi Allora Lui Non lo vedo Chiedo Sono queste Perché poi Uno dice Perché Spari Fai cose Vedi Completamente Sparito Questi sono I machi Ma Accola a chi I machi Porca mignottella Sono i machi Mi spariscono Però Già che non Mi ha attaccato Vuol dire che Non era molto forte Poi magari Mi ammazza adesso In questo Distante Però Io Stesso Discorso Dell'altra volta Voglio mettere Qua sopra E vedere se Quasi eh Non so se avete notato Ma Quasi 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 Si Me la rischio Lo so Anche perché c'era il Maco Qua da qualche parte Chi me lo fa A me Di andare In giro Come Dai Perché non l'ho preso Why Why non l'ho preso Va bene Allora Adesso che sta partendo La safe Mi sento di dirvi Che in questo Momento Non Taglierò Più Come va Va Quel che succede Succede Non taglio Più Per il momento Perché Voglio capire Come Vedi Quello sta facendo Di tutto Per Oh 105 Guys Un 105 Cattivissimo Ragazzi Veramente Cattivo Vedi come se ne va A me va bene Cioè nel senso Non Non per Tanto Ok Ci sta eh Ci sta 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 Il comportamento Di questo Anzi 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 Chiaramente In questo Momento Non ce l'ha Con me Tanto Io I materiali Ce li ho Chi se ne frega Ok Di qua Non mi possono Sparare Devo fare Devo fare Comunque Attenzione Siamo rimasti In quattro Oh Quasi 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 Lui sa Che io Sto qua Quindi È arrivato il momento Di andarcene E chi me lo fa Famme Recupero un po' Di legno Dato che ne ho Utilizzato Veramente una Botta Tanto Cioè Mille Quasi Qua ci potrebbe Essere Comunque Qualcuno Camperato Insomma Ok Già Abbiamo Recuperato Un po' Di legno E me ne vado Verso di là Lui secondo me Proverà Ad attaccare là Magari Sale sopra Becca la trappola Sai quanto rido Rido Proprio tanto Quindi Me ne andrei In safe Abbiamo tutto Quello che ci serve Per potercela Portare a casa Sta partita Questo sotto Lo vedo Bello Bello Agguerrito Molto Molto Agguerrito Ragazzi Io Voglio provare A portarmi via Uh Io quello Mi voglio portare via Magari Mi dà pure Qualcosa di buono Possibile che Questo nessuno È intenzionato A proteggerlo Nessuno C4 Non ne vedo Mi piace Mi piace Ragazzi Mi piace Mi piace Mi piace Preferisco fare così Nascere anche un altro airdrop Vedi Io quella Non l'ho fatta Vedi 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 lo stronzo Ok Credo si sia sparato Un faccia Non ne sono sicurissimo Ma credo che si sia Spaccato la faccia Dato che lui Dato che lui È l'ultimo E adesso Sarà sicuramente Occupato a curarsi Perché mi sembra Che si sia spaccato La faccia Con lanciarazzi Anzi strano Che non è morto Ma si vede Che c'era quello blu Sicuramente Nessuno Nessuno Ok È tosta È tosta Mi piace Figa Perché è figa Tutto quello che vi pare Però sono finito Con un mare di merda Che c'era Ok Ok È tossa, regà, eh Vediamo se lo capisci che con me pure Non si scherza Ok Ok, si è morto Si è ammazzato, regà Regà, si è ammazzato Ok Ha preferito così Io apprezzo Io apprezzo tipo troppo, regà Anzi Che scherzi Mi sentite se in culo, potrei dire No A me va bene Non so che cosa gli sia successo Però A me che me frega Tanto Asif sta qua Lui non ho idea di dove Di dove possa essere Ok Quindi qua Ho una cosa che Mi può sicuramente aiutare Non mi va di rimanere sopra Di questo frangente Non mi va di rimanere sopra Ok Ok Sicuramente È molto interessante Questo fatto Figo Molto figo Molto figo Che partitona Questa è speciale Questa è speciale sta partita Questa è speciale ragazzi Bella, 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 bella Questa è veramente speciale Signori, spero che l'appuntamento di oggi Vi sia piaciuto, se fosse così mi raccomando Pollicione in su, commentate, condividete se non siete iscritti Iscrivetevi al prossimo appuntamento Bossi di Cepro89 Ah come ricominciata brutta